La nuova sede per noi rappresenta un sogno che si realizza e ci permette, oltre ad accogliere gli uffici amministrativi, anche una serie di ambienti per l'accoglienza dei malati e i familiari. Diventerà presto un punto di riferimento per i 400 iscritti e i 3000 malati della marca la nuova sede dell'Associazione Parkinsoniani di Treviso, aperta in via ospedale, nello stesso edificio che già ospita l'Avis Veneto e Provinciale. Riportiamo anche come nostro logo gli stagli a cuore, quindi ci stanno a cuore tutte le situazioni particolari e cerchiamo di portare avanti quella collaborazione tra associazioni che ci siamo riproposti di portare avanti e di implementare. Abbiamo uno sportello per le pratiche burocratiche e di validità, apriremo uno sportello di assistenza legale. Servizi ma soprattutto formazione per volontari, familiari e malati stessi perché la conoscenza, dice la Presidente, è fondamentale per affrontare questa patologia. Ho i pacchi su da 20 anni e non ho paura di dirlo perché sto bene, lo vivo, l'ho accettato e si può vivere bene anche con questa malattia.